Il mio compito è intrattenervi, spero amabilmente e soprattutto brevemente, sulla storia della scoperta delle reazioni piezonucleari. Dal greco piezein premere, greco antico, nucleare è scontato per tutti quanti noi da almeno 80 anni, la pressione che giustamente influenza il nucleo atomico. Tutte le reazioni che avete visto come correttamente ha messo il dito sulla piaga il collega sono, per dirla con fantozzi, mostruosamente proibite, sia dalla meccanica relativistica sia dalla meccanica quantistica, ed è giusto che sia così, in condizioni regolari. Lascio le sottigliezze di fisica teorica e di teoria della relatività sottintese all'aggettivo regolari. Pro buona fide, accettatelo soltanto come spiegazione a posteriori di quello che può avvenire nell'intimità della materia. Per correttezza devo semplicemente preannunciare che tutto ciò che noi conosciamo della materia dopo 4.000 anni di scienza e 4 secoli di fisica si riduce a questo. L'atomo è 100.000 volte più grande del suo nucleo, 10 alla meno 8 centimetri contro 10 alla meno 13 centimetri, un Engstrom contro un Fermi, il nucleo ha 100.000 volte più energia del suo stesso atomo. 2,5 milioni di elettronvolt, costante tipica dell'energia di legame nucleare, contro 10,6 elettronvolt costante di Rydberg di ionizzazione. Quindi tutto ciò che abbiamo detto che diremo è semplicemente assurdo, perché si tratterebbe, mediante la pressione, di esercitare una leva svantaggiosa di terzo tipo, parlando come Archimede, con il braccio della resistenza 100.000 volte più lungo del braccio della potenza e una potenza 100.000 volta inferiore alla resistenza e spostare con la spinta di un centigrammo un chilogrammo. Se la natura fa questo, chi siamo noi per giudicarla? Però rendiamoci conto che questa è l'assurdità contraria alla leva di Archimede che stiamo affrontando. Vediamo storicamente come è stata affrontata, prima gli uomini, poi gli strumenti. Qui siamo nel 2005 e dalle tende tirate ovviamente siamo in un laboratorio militare. Siamo nel quarto reggimento scorpione, reggimento tecnico dell'esercito italiano. Il primo lavoro fu condotto in virtù della convenzione tra l'allora ministro alla ricerca Moratti e l'allora ministro alla difesa Martino, mediante un accordo tra l'allora presidente del CNR fisico nucleare di vituperata memoria, Fabio Vistella, eravamo l'agenza Fabia, visto che mi chiamo Fabio anch'io e il successore ministro fu Fabio Mussi e giustamente i vertici militari del comando logistico dell'esercito italiano. La macchina che al centro fu costruita dal quarto reggimento, il quale praticamente nulla a invidiare al Politecnico di Torino, visto che la maggioranza dei suoi ufficiali tecnici sono laureati al Politecnico di Torino ed è stato in un certo senso un piccolo miracolo. Tutto è iniziato qui. Ed ecco questa splendida figura di soldato e di scienziato, il colonnello oggi generale di brigata Antonio Aracu con in mano ampiamente soddisfatto l'anno dopo una delle parti principali del reattore a cavitazione, appunto la camera di reazione. Gran botta di fortuna si dice a Roma, dopo aver progettato la camera di reazione abbiamo scoperto che era disponibile addirittura commercialmente avendo passato in rassegna tutto ciò che il mercato offriva. Il tutto fu spostato ai laboratori civili del Consiglio nazionale delle ricerche e ci toccò lavorare per un anno sotto telecamere per ragioni di sicurezza. E così siamo arrivati per una questione drammatica alle misure dirette dei neutroni prodotti mediante sollecitazione della pressione ultrasonica sulle soluzioni liquidi di acqua deionizzata bidistillata e sali di ferro. Ovviamente questa è una foto ricordo, i paraorecchi sono per gli ultrasuoni, la parte ovviamente che eslitava verso l'udibile, ma tutto il resto, occhiali, maschere e guanti, sono per questi particolarissimi rivelatori di neutroni, rivelatori termodinamici, i quali entrano in ebollizione quando sono attraversati appunto dai neutroni, i quali null'altro sono, parlo per tutti coloro che la vogliono intendere non specialisticamente, quindi i colleghi mi passino il termine, dei secchi che portano l'energia nucleare fuori dal nucleo e la versano per esempio in questi rivelatori producendo l'effetto termodinamico della evaporazione di un idrocarburo aromatico il quale essendo intrappolato in una gelatina mette in luce il fenomeno dell'evaporazione mediante appunto bolle. Il sistema lubrificante di questi rivelatori era al solfuro di molibdeno, volatile e velenoso, ed ecco la precauzione dei guanti, maschere e occhiali. E alla fine non lasciatevi trarre in inganno dall'aspetto bonario del collega sul lato opposto del banco, qui vedete la macchina quasi al completo, il colonnello Raku l'aveva giustamente chiamato dopo averne diretto la costruzione cavitatore, semplicemente dal nome di ciò che faceva, cavitava l'acqua e l'altro collega, il tenente colonnello del centro applicazioni militare energia nucleare, l'ex glorioso Kamen, Giovanni Chirubini in borghese e sul lato opposto. Qui siamo nei laboratori nucleari del centro tecnologico logistico interforze nucleare batteriologico chimico di Civitavecchia. Tutto è stato trasferito anche in collaborazione con l'ansaldo nucleare sotto la giurisdizione di nuovo militare dopo quella civile e correttamente Giovanni Chirubini, che è uno dei massimi neutronisti disponibili, si è peritato di fare tutti i lavori di verifica delle misure di neutroni che fossero un fenomeno genuino. E infine, a successo avvenuto, per la prima volta in divisa da campo, è arrivato il comandante del centro, il generale Costantino. Ovviamente sulla divisa da campo i gradi a bassa visibilità in plastica nera non si vedono, comunque sul suo taschino sul lato sinistro c'è la stella e la greca da generale. Per chi ha la vista acuta, io non riesco a vederli neanche qui sullo schermo. E venne a congratularsi dopo che avevamo finalmente avuto la terza e definitiva prova dell'emissione di neutroni, mediante una rilevazione elettronica. A questo punto finiti i liquidi subentrano i solidi. Nell'anno 2008 tocca a voi, al Politecnico e al Professor Carpinteri. Lui saggiamente disse, ma se comprimento i liquidi io posso ottenere quel fenomeno che è la cavitazione, cioè il collasso di una bolla di gas contenuta in liquido su se stessa, lo stesso fenomeno può essere ottenuto con una frattura. Questo fu lo scambio di opinioni tra il Professor Carpinteri e me, nelle sedi opportune. Ottenuto il risultato, mediante, come vi ha ricordato, la frattura fragile, il passo successivo fu quello dell'industria. Il testimone dagli enti pubblici, CNR, Esercito, Ansaldo Nucleare, che è uno pseudo ente pubblico e un'azienda che appartiene al gruppo Finmeccanica, di cui è ben noto la quota aurea delle azioni, è detenuta dal Ministero dell'Economia, quindi dallo Stato italiano, è passata da una piccola azienda ad alta tecnologia in Milano, la quale correttamente ha fatto 2 più 2 fa 4. Se io metto ultrasuoni nei liquidi e ottengo neutroni, io spacco i solidi con una pressione e ottengo neutroni, in comune queste due cose hanno solo la pressione. Prendiamo gli ultrasuoni, esercitiamo la pressione degli ultrasuoni sui solidi e vediamo quello che succede. Qual è il denominatore comune? Il ferro. Non mi importa assolutamente che cosa fa il ferro da un punto di vista nucleare, tanto ormai siamo nel mondo di Alice, abbiamo superato lo specchio, è peggio della Terra incognita, è la Terra dell'assurdo. Vediamo l'effetto che fa, proviamo e vediamo. Che poi dietro ci sia una teoria completa e compiuta, la quale ha qualitativamente dentro certi limiti modesti, quantitativamente predetto la possibilità di questi fenomeni, quello è un altro paio di maniche. A un'azienda non gliene può importare di meno, come si direbbe. Loro vogliono solo risultati. Loro pensano soltanto a produrre per vendere. Non si preoccupano di spiegare i risultati che ottengono. Desiderano soltanto che i risultati siano affidabili. Questo è stato lo spirito con cui sono venuti di santa pazienza ad assistere alle relazioni che abbiamo tenuto Carpinteri ed io all'Accademia delle Scienze qui in Torino e hanno fatto in tre mesi il lavoro che l'ansaldo nucleare e il CNR avevano preventivato in tre anni. Nemmeno né più. Hanno semplicemente speso 200 mila euro in più rispetto al bilancio preventivo di CNR e l'ansaldo nucleare. A questo punto l'avventura è finita. Gli uomini li avete visti. Guardiamo adesso le macchine. Questo è il cuore del sonotro docavitatore. Questo è il sistema, qualcuno scherzando dice, il pungiglione, visto che il reggimento che l'ha costruito era il reggimento Scorpione e l'aculeo dello Scorpione. Ma il vanto dei laboratori delle officine del reggimento è il sistema di raffreddamento. È evidente che un oggetto che vibra 20.000 volte in un secondo, che gli piace o no, scalda. È evidente che un oggetto che vibra 20.000 volte in un secondo deve mantenere la risonanza. Se si scalda, si dilata. Se si dilata, perde la risonanza. Quindi deve continuare a vibrare, mantenere il trasferimento di potenza ultrasonica, quindi di vibrazione, mantenendo ragionevolmente inalterata, entro limiti di tolleranza accettabili, le proprie dimensioni lineari e in assoluto geometriche. Dimensionare e costruire l'impianto di raffreddamento non è stato uno scherzo. E il merito è tutto quanto in ultima analisi dei vostri laureati, visto che erano ufficiali del corpo tecnico in servizio presso questo reggimento. È un giusto rendimento di onore all'istituzione accademica che è il Politecnico di Torino. E qui, finalmente, signori, vi presentiamo la prima fotografia dell'energia nucleare, le bolle. Questi giocattoli costano uno sproposito. Normalmente vengono utilizzati per l'antiterrorismo nucleare e giustamente soltanto le forze armate potevano permettersi coraggiosamente, dico sempre io, di affrontare la spesa della serie Mirate al cuore Salvate il portafoglio. Purtroppo questi sistemi, ripeto, sono anche difficili da reperire a livello proprio industriale. Non di meno forniscono un'immagine impressionante della liberazione di neutroni, proprio mediante la visione, oserei dire, diretta. Il fatto che questi fenomeni possono essere messi in luce con un'evidenza macroscopica, se non li vedo con gli occhi e addirittura li tocco con le mani, è la parte eclatante dell'interezza non tanto della scoperta ma del fenomeno stesso. E qui la seconda versione. Dopo il metodo termodinamico, l'evaporazione, il metodo chimico, la fotografia. Abbiamo preso un giocattolo che normalmente viene venduto per 2.000 euro la fotografia, questa fotografia costerebbe 2.000 euro, e l'abbiamo fatta costare 20 euro. abbiamo preso l'astre di policarbonato, l'abbiamo abbinato ad acido borico opportunamente e abbiamo potuto fotografare l'emissione di neutroni che qui, a priori ed a posteriori, consentitemi questo, nessuno è il brevetto del cervello. Tutti quanti noi possiamo trarre delle conclusioni da ciò che vediamo e dall'esperienza sensibile, per dirla con Galilei, l'esperienza sensata. Ovvero sia, qui si vedono proprio due impulsi di neutroni registrati mediante il processo di trasformazione. Neutroni, boro, boro che va in litio, converte in alfa, radiazione alfa che incide sul policarbonato, lo danneggia per ionizzazione, cessione di energia che genera, appunto, liberazione di cariche elettriche e alterazione della struttura chimica, la quale, ionizzazione, con il suo conseguente danneggiamento del materiale, viene messa in luce dall'attacco chimico, lo sviluppo, volgarmente detto, mediante soda caustica in bagno termostatato. Il prodotto finale è questa fotografia che vedete. È un normale processo chimico, o radiochimico abbinato, se volete, di foto, nemmeno né più. E qui, pari e patta, con un canale di neutroni di uno dei due reattori dell'Enea Casaccia, a Roma, per verifica che il metodo fotografico era perfettamente in grado di fotografare i neutroni di un canale di neutroni di un reattore. E la cosa divertente è stato il confronto comparativo delle foto ottenute. Prego. Voilà. Non è tanto il fatto che uno è il doppio dell'altra, il fatto che uno è pulito e l'altro è sporco. Quindi, nel caso della generazione di neutroni mediante pressione ultrasonica, su mezzo chilo, rozzamente, di acqua e sale di ferro, io ottengo degli impulsi di neutroni violentissimi che impressionano la lastra, secondo il processo che vi ho illustrato, che è perfettamente noto, ma non c'è conseguenza collaterale. Nel caso di un canale di neutroni in un reattore nucleare a uranio classico proprio, la sporcizia di radiazioni secondarie e quant'altro che c'è è sì dovuta alla diffusione dei neutroni, ma è anche un segnale di tutta la radiazione di accompagnamento che necessariamente accompagna i neutroni. Per farla breve, il nucleo quando emette neutroni correttamente entra in uno stato eccitato, si dice, rotazionale e si diseccita mediante emissione di gamma. Quindi io mi aspetto comunque una radiazione di accompagnamento o secondaria proveniente dal nucleo stesso che ha emesso i neutroni. Nel caso degli impulsi di neutroni prodotti con pressione ultrasonica sembrerebbe assente. Per dirla col grande Giorgio Salvini, padre fondatore dei nostri laboratori nazionali di fisica nucleare a Frascati Roma, tutto si comporta come se i neutroni fossero prodotti dalla pressione ultrasonica senza altra radiazione di accompagnamento. Prego. E questa, la terza tecnica, quella elettronica. Un rivelatore elettronico al trifluoruro di boro. è sostanzialmente un contatore Geiger in cui media sempre attraverso il boro un'emissione alfa catalizzata dall'urto dei neutroni col boro e rileva poi l'ionizzazione che i raggi alfa producono all'interno del tubo posto sotto tensione. Detto proprio brevissimamente. E qui la verifica finale. Si accendono da zero, vedete, gli ultrasuoni. Si arriva fino alla riga verticale, si spengono gli ultrasuoni e c'è un tempo di latenza. Almeno per questi 300-500 grammi di soluzione di acqua e sale di ferro. Ovviamente abbiamo cambiato anche i sali. Abbiamo usato sali di litio, sali di alluminio, di cloruro, di ferro e di nitrato di ferro. L'unica cosa era la presenza del ferro. Litio? Niente. Alluminio? Niente. Perché? Chiediamolo alla natura correttamente. Il punto cruciale però è che terminati appunto gli ultrasuoni, questo è come un vecchio motore diesel. Prima si deve scaldare, poi inizia il suo ciclo, emette gli impulsi, poi si spegne, fa gli ultimi scoppi come un vecchio diesel e dopo il silenzio. Fine delle emissioni. Tutte le misure effettuate sui campioni di liquido sottoposto ai ultrasuoni prima, durante e dopo hanno mostrato zero presenza di radiazione ionizzante, zero presenza di raggi gamma, spettro di raggi gamma sempre e comunque prima, durante e dopo compatibile con il fondo, anzi sostanzialmente il fondo. E questa è stata una cosa assolutamente sorprendente. Questo silenzio radioattivo soprattutto dopo. comunque queste sono tre tecniche assolutamente indipendenti ma complementari nei risultati e qui li vediamo in prima persona questi impulsi di neutroni che prima delle fotografie erano giustamente intuibili. Benissimo. Dopo aver trattato liquidi inerti vediamo l'effetto che fa del mondo di Alice di andare a vedere liquidi radioattivi. visto che l'ente militare aveva a disposizione il Torio 228 che potevamo tenere in soluzione abbiamo fatto questa prova e nulla di più che una prova una prova sperimentale prima che diventi un esperimento e una prova sperimentale definitiva ovviamente richiederà tutte le successive sperimentazioni del caso. In fondo il metodo sperimentale signori diciamocelo francamente tra colleghi è fondato sul principio di reciproca sfiducia io non credo a quello che hai fatto tu fino a quando non l'ho fatto pure io ecco il concetto stesso di verifica sperimentale nella colonna che è giustamente alla vostra sinistra vedete tre campioni dove è stata fotografata la radiazione caratteristica del Torio 228 che è un esalfa emettitore quindi dà un'impronta stile dita della mano sulle lastre fotografiche e i successivi sul lato destro otto campioni sono quelli relativi al trattamento della soluzione con ultrasuoni il trattamento è sempre una partita di calcio 90 minuti quindi 40-50 minuti per far scattare il livello delle reazioni e i successivi minuti utili per lo sviluppo delle reazioni stesse abbiamo constatato con nostra sorpresa che mediamente la radiazione di accompagnamento alla radiazione caratteristica alfa del Torio rimaneva invariata però nel primo caso su quattro campioni avevamo tre quarti nel secondo caso avevamo tre ottavi quindi la radiazione caratteristica del Torio era diventata la metà della serie chi gliel'ha fatto fare questo può essere solo un indizio a questo stadio e null'altro era che questo però abbiamo constatato questo fatto supponiamo per assurdo che effettivamente la radiazione specifica del Torio sia diventata la metà dov'è il resto della radiazione non c'è le immagini contate con un sistema automatico e poi contate anche proprio a mano a occhio umano mediante persone che si sono succedute nella conta ha dato sempre che i primi quattro campioni erano compatibili con i successivi otto come radiazione di accompagnamento andiamo a misurare quindi che cosa è successo al Torio o guarda è diventato la metà non gliel'ha ordinato il medico sembrerebbe un secondo indizio compatibile con il primo se ho metà del Torio mi aspetto metà della sua radiazione caratteristica domanda che cosa è diventato il Torio se è vero questo risposta nostra a Dio solo lo sa in fondo la natura è prodotto del Padre Eterno correttamente l'ultima domanda va rivolta al Padre Eterno ed è giusto che sia così da Mosca Leone D'Aurusko e Larion Lebedev ci hanno correttamente fatto notare che dalle loro misure in cui sottoponevano una soluzione opportuna di solfato di uranile e verificavano l'alterazione dell'equilibrio secolare per un'assenza di Torio hanno trovato che il Torio poteva essere diventato citando il citato Salvini tutto avveniva come se il Torio fosse diventato piombo il che sembrerebbe abbastanza ragionevole quindi la pressione ultrasonica avrebbe catalizzato nella sostanza radioattiva una trasmutazione che è perfettamente in linea con la catena radioattiva che dall'uranio porta al piombo il che può essere ragionevole siamo entrati definitivamente nel mondo di Alice dove una sostanza inerte il ferro totalmente svantaggiata la peggiore possibile immaginabile per dare reazioni nucleari come vedremo alla fine quella che ha il più alto valore di energia di legame per nucleone quindi scherzando possiamo dire che è duro come il ferro e chi lo smuove quello però libera i neutroni dà energia nucleare in senso lato una sostanza radioattiva come il Torio perde la sua radioattività questo è il mondo di Alice la destra si scambia con la sinistra il comportamento della materia viene ribaltato proseguiamo noi ci siamo divertiti ma non dopo gli esperimenti 20 anni prima degli esperimenti questo mattone di 500 pagine ottimo come fermaporte è il risultato di 20 anni di studi sul comportamento delle interazioni fondamentali giustamente i pezzi della macchina costruita dal colonnello dall'allora colonnello ragu venivano dalla sonotronic di Karlsbad provincia di Stoccarda regione del Baden-Württemberg in Germania e indipendentemente senza nessuna correlazione la Springer ci chiese di pubblicare tutte queste cose in questo mattone noi correttamente abbiamo risposto visto che ce lo chiedete voi e non ve l'abbiamo proposto noi attenzione che noi vogliamo pubblicare questo vi sta bene riuniti sul comitato scientifico disse sì accettiamo il rischio e questa è la teoria dello spazio-tempo deformato come entrare nel mondo di Alice al di là dello specchio il concetto è stupido e semplice al tempo stesso il nucleo è questo lo spazio-tempo è questo lo spazio-tempo è piatto non ci sono santi il nucleo sta su questo palcoscenico e fa quello che deve fare ma se il palcoscenico si deforma e lo spazio-tempo mediante un'opportuna concentrazione di energia in un opportuno intervallo di tempo di un'opportuna concentrazione di densità di energia nello spazio quindi energia nel volume in un opportuno intervallo di tempo deforma lo spazio-tempo questo è quello che noi pensiamo che succede e scappa fuori il neutrone nemmeno né più il concetto di pressione non c'entra niente signori non sono newton su metro quadro scherzando e per dirla col grande Paolo Dirac ragioniamo in fisica mediante l'analisi dimensionale si può dare fino in fondo alla pressione il significato di vettore ovviamente sì si prende la superficie si prende la forza normale ad essa e abbiamo un bellissimo vettore pressione e come la mettiamo col principio di Pascal dov'è il vettore lì? dov'è la definizione di direzione e verso? uno dice benissimo sono in presenza di un campo vettoriale nemmeno né più da un tensore di primo rango il vettore mi diverto a passare a un tensore di secondo rango appunto una matrice e dico semplicemente che ho il tensore della pressione poi posso far diventare tutto sempre più complesso posso andare fino a Cauchy e via discorrendo ma il concetto fondamentale non è questo la pressione noi l'abbiamo immaginata come joule su metro cubo una densità di energia nello spazio basta? no una densità di energia nello spazio e nel tempo dobbiamo metterci dentro anche l'intervallo di tempo è la variazione di esso che produce l'alterazione o deformazione dello spazio-tempo che autorizza nuove reazioni nucleari ma di fatto fa entrare in una nuova regione delle interazioni intese non più sotto forma potenziale quindi la funzione energia potenziale energia in funzione dello spazio bensì intesa sotto forma geometrica quindi teorema di Pitagora in funzione dell'energia misuro le distanze ho bisogno del teorema di Pitagora ma le distanze sono costruite misurate con un teorema di Pitagora che è funzione dell'energia quando io faccio variare l'energia faccio variare il mio teorema di Pitagora quanto tempo ci metto a farlo variare è quello che mi fa entrare in una nuova regione delle interazioni che siano esse nucleari o radiattive in termini specifico adroniche o leptoniche vale pari pari per le gravitazionali e le elettromagnetiche nemmeno ne più questo è quanto noi abbiamo fatto preventivamente agli esperimenti altrimenti chi ce lo faceva fare una mera constatazione empirica euristica abbiamo preferito una concezione deduttiva ovvero sia vediamo se la teoria che rappresenta in forma geometrica generale Dio solo sa se è assoluta le interazioni e autorizza nuove reazioni nucleari si realizza nella realtà ovviamente della serie qua nessun effesso chi domina il mondo il motore immobile dell'umano universo è quella cosa che inizia per la IE e questa cosa sono i soldi il consiglio nazionale delle ricerche si è appropriato di tutto e l'ha brevettato e adesso lo sta felicemente vendendo spero con sua soddisfazione tutto è diventato di nostra proprietà proprietà dello stato italiano i proprietari di tutto quello che avete ascoltato siamo noi primo brevetto secondo brevetto terzo brevetto buon per loro come istituzione buon per noi come cittadini italiani a questo punto finiti i liquidi iniziano i solidi qui ripeto quello che giustamente ha detto il professor Carpinteri come doveroso omaggio alla sua opera alla sua sagacia alla sua saggezza scientifica nemmeno né più non gliel'ha ordinato il medico di farlo poteva semplicemente obiettare che analogia c'è tra una cavitazione e una compressione una cosa sola la frattura la frattura può essere nei solidi l'analogo della cavitazione nei liquidi vediamo vediamo i fini nucleari se è vero questi sono i quattro campioni che avete visto illustrati questa è la macchina che li ha spaccati e questo è quello che succede al marmo il marmo concedetemi la libertà di linguaggio si sfalda il granito invece si spacca il concetto è tutto qui non tanto dal mio punto di vista teorico e fisico il modo che dantescamente potremmo dire ancor m'offende ma il tempo questa variabile fondamentale unita allo spazio a parità di pressa a parità di pressione io che cosa considero quanta energia ho caricato nel volume del campione e in quanto tempo questa energia è utile per la deformazione dello spazio-tempo per invertire questa mostruosamente svantaggiosa leva di terzo tipo di Archimede in qualcosa completamente diverso parole povere signori che cosa abbiamo fatto abbiamo cambiato il punto d'appoggio della leva non abbiamo cambiato leva la materia è rimasta la stessa nemmeno né più il resto l'avete visto il marmo non fa niente continua a non fare niente il granito no primo perché c'è il ferro rispetto al marmo scelto ci sono tipi di marmo che hanno il ferro ma nel caso particolare era stata scelta questa doppia differenza caratteristica di comportamento sotto pressione caratteristica di differenza di composizione il granito continua a fare che Dio lo benedica e a questo punto arriviamo all'apoteosi qui non si vede niente perché è tutto sotto brevetto ed è tutto in vendita e se lo stanno litigando tra Londra e Roma buon per loro che hanno investito rischiato e costruito qui si può solo vedere la camera di contenimento della macchina del reattore giustamente finalmente questo sì che è un reattore della StarTech e accanto una parte del sistema di controllo tutto sta dentro tutto è oscuro perché tutto è in vendita ovviamente se non possiamo vedere che cosa l'ha fatto vediamo che cosa ha fatto prego un inferno se ci voleva una partita di calcio 90 minuti per mezzo chilo di liquido contenente sali di ferro qui sono bastati 5 minuti per avere questi rettangoli che vedete nel riquadro in basso con le frecce bianche puntate sopra che erano gli impulsi di neutroni questo è un rivelatore elettronico a cristalli la radiazione gamma resta ragionevolmente che sono i triangolini bianchi accompagnata dal resto della radiazione neutronica quindi abbiamo pure distinto il fondo neutronico dagli impulsi la cosa sorprendente è che abbiamo verificato il vantaggio della materia condensata la materia solida la cosa divertente è che abbiamo anche impiegato meno potenza nel caso dei liquidi ci volevano 130 watt di potenza ultrasonica trasferita con un'alimentazione di 2 kilowatt tratti dalla rete per generare ultrasuoni qui sono bastati 19 watt lì ci volevano circa 50 minuti per arrivare ad avere le reazioni qui meno di 5 minuti giustamente le soluzioni erano densità 1 1,2 qua siamo al ferro densità 7 7,8 130 contro 19 stiamo lì è esattamente quello che stavamo cercando la concentrazione dell'energia nel volume questa è la vittoria della materia condensata nemmeno ne più e andiamo finalmente a vedere che cosa è successo all'energia dei neutroni qui ci siamo scornati è il caso di dirlo grazie alla generosità della Radtec con un'evidenza StarTech e Radtec entrambe di Milano hanno collaborato vigorosamente una costruendo la macchina l'altra eseguendo le misure e convocando gli esperti qualificati di terzo livello i nostri colleghi che per legge sono abilitati con tanto di registro dell'albo professionale a certificare le misure di neutroni appunto che sì c'erano neutroni ma porca miseria quando sono bassi i conteggi al che siamo arrivati alla conclusione che stavamo contando gli impulsi non i neutroni e quindi potevamo anche beatamente infischiarcene del basso conteggio l'unica cosa che contava è la profonda differenza anche da un punto di vista statistico-matematico tra il fondo e le misure le misure come vedete hanno un andamento logaritmico normale lo voglio ancora vedere un fondo che ha questo comportamento regolare mentre invece il fondo aveva un andamento molto basso è anche molto casuale stocastico e tutti i giochi di parole sono a vostra disposizione il che è ragionevole stando nella padania profonda dove siamo terreno alluvionale vorrei vedere che ci fossero fondi radioattivi come quello laziale che è vulcanico purtroppo è il fatto fondamentale che per la prima volta siamo arrivati a determinare l'intervallo di energia di questi impulsi di neutroni tra 0,5 e 1,5 milioni di elettron volt adesso possiamo incominciare a ragionare ancora di più sulla produzione di questi neutroni mediante la pressione e vediamo un po' il nostro primo attore il ferro ne abbiamo tanto parlato gli fischieranno le orecchie giustamente essendo stato sottoposto a 20 kHz di ultrasuoni hai voglia se gli fischiano e conclusione della storia gli è venuta la varicella la scarlattina il morbillo abbiamo fatto ammalare il ferro l'abbiamo talmente agitato che si è bucato si sono prodotte una serie di bruciature di danneggiamenti superficiali di fori da cui possiamo concludere sono usciti i neutroni perché quando abbiamo eseguito le misure durante l'applicazione degli ultrasuoni nell'arco di 60 minuti abbiamo constatato che la maggiore emissione di neutroni era in corrispondenza con il maggior danneggiamento superficiale se non altro è una constatazione potremmo dire che è un fenomeno di tropismo siamo davanti a una localizzazione del fenomeno ovviamente il tutto è impressionante qui vedete uno di questi fori sono dei piccoli crateri signori su una qualunque barra di un qualunque combustibile nucleare dopo un tempo ragionevole di esercizio in reattore trovate gli stessi fori tranquillamente piccolo dettaglio sono dell'ordine del micron da 3 a 6 micron gliel'ha ordinato il medico sul ferro di essere da 3 mm cioè li vedo occhio nudo a questo punto non ho più bisogno di sofisticati sistemi termodinamici a ebollizione delicate lastre fotografiche che qualcuno costosamente vende qualcun altro artisticamente risparmia regolari rivelatori elettronici di neutroni ma bastano gli occhi miei perché accade questo facciamo l'avvocato del diavolo è un'ossidazione il riscaldamento dovuto ai 20 kHz di oscillazione ha prodotto l'ossidazione superficiale del ferro è ragionevole decappiamo il ferro mediante acido cloridrico al 33% la soluzione a titolazione massima e un processo standard industriale di decappaggio per sfregamento in immersione di acido cloridrico se sono ossidi di ferro devono essere rimossi manco accannonate la stanno e là sono rimasti allora che diavolo sono queste bruciature cosa c'è lì dentro andiamolo a vedere voilà come ha illustrato anche Carpinteri anche in questo caso in una maniera oserei dire eclatante il ferro si è dimezzato all'interno del cratere abbiamo fatto tutta una serie di prove sulle superfici non danneggiate sulle tre regioni delle tre corone circolari le aureole di questo cratere nel ferro insomma ci siamo sfiziati in tutti i modi non ci sono santi dentro il cratere dentro il danneggiamento al centro della figura precedente il ferro si è dimezzato stranamente in equilibrio ponderale qualcosa che non c'era è comparso e non gliel'ha ordinato il medico e non è magia signori non è materia di fede è materia di fisica quindi non usiamo per cortesia il verbo credere nemmeno quello obbedire ma solo combattere se scienziati siamo conclusione sembra che il prodotto finale sia solo carbonio e ossigeno è come dire stranamente qualcosa di simile alla cenere allora che gioco giochiamo io metto una barra di ferro che si comporta come un ciocco di legno solo perché passatemi il termine l'ho sbattuto ventimila volte in un secondo per sessanta minuti per un'ora uno potrebbe dire sono solo mere constatazioni che necessitano alla popper di una falsificazione il che è ampiamente corretto signori nulla da dire e nulla di più non pretendo di proporre altro che le evidenze che siano poi evidenze sperimentali dipenderà dal principio di reciproca sfiducia la riproducibilità benissimo arriviamo quindi alle estreme conclusioni fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenze e vediamo la staccanoscenza tutto finisce in carta tutto finisce in paperi in pubblicazioni da Galilei in poi quanto ci piace metterci in mostra la vanità della scienza vanitas vanitatum et omnia vanitas tutto è stato pubblicato felicemente e allegramente con tutti gli onori sulla massima rivista di fisica physics letters i liquidi inerti o neutri o neutrali se preferite i liquidi radioattivi e i solidi benissimo ma tutta questa montagna di carta oltre che i concorsi dove ci porta? vediamolo ci porta nella terra incognita questa è la curva che il collega giustamente e correttamente evocava e qui non ci sono santi il ferro è lì su in cima sul trono con i suoi 8,9 milioni di elettron volt di energia di legame per nucleone duro come il ferro non si sposta manco a cannonate l'unica possibilità classicamente è ottenere una fusione termonucleare degli elementi leggeri i quali procedendo hanno come traguardo finale il ferro la seconda possibilità altrettanto classicamente è procedere per fissioni nucleari successive a partire dall'uranio che hanno come traguardo finale il ferro e questa è tutta la nostra conoscenza nemmeno ne più questa è la curva di Aston secondo Borre e Wheeler è possibile andare dal ferro all'uranio per fusioni successive e grazie a tante se gli date da 28 miliardi di gradi che siano a questo punto Kelvin o Celsius non è più importante in su e chi glielo fa fare alla faccia della endo energeticità della fusione termonucleare degli nuclei pesanti potete anche fare la fissione dal ferro fino all'idrogeno anche questa è endoenergetica della serie chi ve lo fa fare nel senso non sono certamente direzioni proibite secondo la meccanica quantistica e la meccanica relativistica semplicemente sono di nuovo mostruosamente endoenergetiche la fusione termonucleare degli elementi leggeri è esoenergetica la fissione nucleare degli elementi pesanti è esoenergetica che succede se io cambio il palcoscenico non cambio gli attori gli attori sono questi non cambio le maschere le maschere sono queste cambio il palcoscenico gli cambio il palcoscenico sotto i piedi da assi rigide a telo elastico nemmeno né più a questo punto il ferro può diventare il punto di partenza di nuove reazioni che se Dio vuole potrebbero essere e sembrano essere tutto si comporta come se fossero esoenergetiche quindi per dirla in omaggio al nostro ospite carpinteri reazioni reazioni di piezo chiamiamola fusione nucleare dal ferro verso l'uranio reazioni di piezo fissione nucleare dal ferro verso l'idrogeno chiamatele pure classicamente grecamente nucleosintesi e nucleolisi va bene possiamo anche divertirci come abbiamo fatto ieri sera a cena con il capo dipartimento dell'enea sepielli il quale desidero onorare con una serie di considerazioni a conclusione ovvero sia inventarci un'altra terminologia la fissione meccano nucleare va benissimo ma il concetto profondo è un altro come voi vedete ora in linea di principio possiamo andare avanti e indietro lungo questa curva senza grave dispendio di energia possiamo pensare al ferro non più come punto di arrivo ma come punto di partenza e costruire reazioni nucleari generalizzate peggio un ciclo nucleare dal ferro all'uranio e di ritorno dall'uranio al ferro dal ferro all'idrogeno e di ritorno dall'idrogeno al ferro che abbiamo fatto un motore a quattro tempi un motore nucleare questa è l'incognita che il futuro propone non a noi signori nemmeno ai nostri studenti ai loro figli ai loro nipoti nemmeno né più per dirla coi tre moschettieri questa è una prospettiva di un'audacia inaudita il punto cruciale qual è? ritorniamo indietro indietro e andiamo a vedere che cosa possiamo fare noi visto che questo non lo possiamo fare noi il che è corretto ancora stop Andrea Petrucci anche lui dell'Enea a Roma a un certo punto si è divertito nell'ottica della teoria dello spazio-tempo deformato applicata all'interazione adronica o nucleare che dir si voglia ad andarsi a calcolare correttamente e compiutamente queste reazioni che renderebbero ragione di questa evidenza cosa è venuto fuori signori ci sono i soliti neutroni ma adesso per la prima volta esce fuori la possibilità di andare a caccia di un'altra radiazione nucleare i raggi alfa signori data questa evidenza è possibile che le trasformazioni nucleari chiamiamole in senso generale abbiano anche prodotto i raggi alfa il che ci porta a una conclusione drammatica primo la fusione fredda non esiste non è mai esistita è stata giustamente una ventennale follia tutto ciò che è esistito sono state le reazioni piezonucleari di cui i fenomeni gabbellati come fusione fredda sono state una realizzazione nel modo peggiore possibile l'elio che veniva presentato come il maggior risultato prova delle avvenute fusioni del deuterio proveniva da reazioni piezonucleari di questo tipo che avevano come conseguenza l'emissione di raggi alfa non la fusione del deuterio non è mai stato riscontrato l'equilibrio ponderale tra una diminuzione di deuterio rispetto alla produzione di elio in questi fenomeni semplicemente è stato constatato che la produzione di elio era superiore al rateo di produzione di elio che si avrebbe o che è stato calcolato nel caso di fusione del deuterio allora sto a egli da dove veniva un'ipotesi una possibilità e che venisse dai raggi alfa prodotti dalle reazioni piezonucleari e questo noi lo possiamo fare oggi nel laboratorio del Politecnico signori da oggi dichiaro aperta la caccia ai raggi alfa nelle reazioni piezonucleari buona fortuna e buona caccia ma c'è di peggio l'eccesso di calore o di energia che dir si voglia ampia violazione del secondo principio della termodinamica riscontrato in questi fantastici fenomeni di fusione fredda da dove poteva venire? Ricordiamoci che raggi alfa hanno un alto valore di trasferimento lineare dell'energia quindi potevano essere anche loro per perdita di energia in attraversamento della materia la causa occasionale delle misure occasionali e raramente ripetibili o difficilmente ripetibili dell'eccesso di calore in questi fantastici fenomeni di fusione fredda ma guarda un po' rimaniamo un attimo al Torio scusate un po' che fanno queste reazioni piezonucleari catalizzate dalla pressione comunque essa venga applicata purché sia in quantità sufficiente e in tempi opportuni fa uscire fuori i neutroni dalla materia qualcuno direbbe ingenuamente io dico intelligentemente l'ingegnere Massimo Sapielli da bravo ingegnere nucleare dell'ente nazionale energia atomica per capirci chiamo l'Enea col vecchio nome se no col nome attuale dopo la ennesima penso quarta riforma della legge 99 2009 c'è un nome impossibile da ricordare da pronunciare ha fatto questo ragionamento che ora umilmente vi porgo ma se l'eccesso di neutroni in un nucleo è una delle cause prime della sua instabilità e della sua radioattività e questo processo spreme neutroni dai nuclei può essere il viatico la via per stabilizzare i nuclei facendogli perdere i neutroni in eccesso e farli raggiungere una condizione di quiete in cui non siano più radioattivi in linea di principio è un ragionamento che non fa una piega e apre il campo infinito della ricerca alla riduzione della radioattività nei materiali tanto liquidi quanto solidi e questo si può fare signori grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra attenzione